Buongiorno amici, oggi ci andiamo a fare una passeggiata insieme alla Lidl con le nuove offertine andiamo a vedere che cosa ci sta, ovviamente io entro qua e vedo pane, preosce, oh mio dio no vabbè raga, lasciamo stare, penso che vi risparmierò la mia faccia oggi perché c'ho un herpes grande quando ho la mia testa praticamente, devo vedere che tipo di offertine nuove ci sono perché sono penso un buone tre settimane che non ci vengo proprio qua quindi... papà i pistacchi, fanno male i pistacchi infatti vediamo un po' soia trigo, questo qua me lo prendo, questo qua se non erro è quello senza... si senza zucchero, quindi si si vai Niki, prendi il finocchio vai, prendi il finocchio, bravo, altro finocchio, bravissimo quanti grazie a questa ricottina bio? che è in offerta? no è pesante andiamo un po' mi manca l'affettato light petto di pollo e tacchino, questo qua dovrebbe essere molto molto leggero vediamo un po', si solo il 2% di grassi, possiamo fare allora vediamo un pochettino delle offerte che cosa ci sta facciamoci un giretto dovevano arrivare le cose nuove della Sien, però secondo me ancora è presto per arrivare quelle cose là, qua ci stanno ancora le cose schifezzuole madonna c'è 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 il divisore per staffale ah che carino oh ragazzi il coprioletto di Rosen lo voglio io Niki cosa hai preso? eh sì, prendi 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 no vabbè raga guardate questi non li ho mai visti è per fare i kick pops che sarebbero ste palline così ripiene di torta cioè vabbè lasciamo stare qua ci stanno ancora queste cosine per... ah ma ho messo le proteine guardate che belle guardate che belle oddio che scarpette che cosa? scarpettine adesso sono le scarpettine queste sono carine queste... no ah questi mi servono i salvapiedi non fate caso alle mie unghie che ho dovuto togliere lo smalto fanno schifo perché al lavoro me ne sono distrutte ok questa è una 42 42 44 che carini ste jeans belle ah ragazze i leggings questi mi servono se li sono fatti tutti bastardi i leggings i leggings che carini che carini questi non è solo esse e no ci sono un menno le magliettine così semplici e poi e poi e poi così 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 carini questi topo questa è bella devo vedere questa devo vedere questa che carina così così bella è questa bella anche questa lunga questa com'è? che carina che carino pure questa fanno pure i vestitini guardate così plessettato con la molla che carini in due colori c'è questo qua nero così plessettato e poi ci sta quest'altro tipo doradino e c'è pure ah c'è pure questo argento che carini e non li prendo perché ne ho tantissimi però sono proprio belle queste sono quelle scarpine così bella sta maglietta carino sì questo è bello sportivo poi è una bella vestibilità queste qua eh che belle le scarpine ho preso questo faccia e male quanto vengono? non c'è scritto ma ci sono anche a base di aloe latte 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 per il bagno vaniglia e sesamo oh che spizio ragazzi i profumatori chi sa come sono lavanda orchidea orchidea quanto vengono? 3 euro e 49 è mio è mio è mio ah io lo provo questo vediamo com'è oh fragrance vediamo un po' sempre così con le bacchettine no no ma gli orchidea la spesa è finita mi hanno dato i puffi ma che c'è mi piace qua? schiattiamo il puffo schiattiamo il puffo non ci riesco ah mi pare giusto che a me mi esce il puffo incazzato cioè oh che bellini questi sono quelle che si attaccano vediamo eccola puffo amici è stato un giretto veloce veloce lo so ho un herpes gigante non ci fate caso comunque io e il mio puffo incazzato vi salutiamo e oggi ci sono un sacco di cose carine effettivamente quindi andatevi a fare sto giretto e niente ragazzi io santo padre che è dietro ma non vi saluterà perché non ve lo faccio vedere lui si vergogna e un bacione al prossimo video ciao